ciao a tutti in questa lezione vedremo che anche le composizioni come qualsiasi materiale importato in after effects possono essere duplicate e vedremo anche perché in certe situazioni questa operazione velocizza e anche di molto il lavoro in after effects bene per cominciare creiamo subito una nuova composizione new composition come nella lezione precedente anche questa la chiamiamo animazione finale fotografie i soliti settings li lasciamo hd 1080 25 10 secondi e così va bene ok mettiamo come sfondo la scacchiera e facciamo in modo che compaia il segno al centro della composizione per fare questo andiamo nel menu qui in basso a sinistra e attiviamo la voce title action safe bene ora prendiamo la nostra prima fotografia questa ok facciamo una semplicissima animazione voglio che questa fotografia al tempo zero si trovi fuori in alto e poi arrivi qui al centro dell'inquadratura quindi devo lavorare sulla position quindi clicco il tasto p per attivare la proprietà position siccome deve arrivare qui la fotografia stabilisco che a mezzo secondo circa la fotografia si trovi proprio lì dov'è quindi in quel momento accendo l'orologio e al tempo zero voglio che la fotografia si trovi fuori in alto faccio una preview rapidissima benissimo una semplicissima animazione d'ingresso dall'alto seleziono l'ultimo keyframe e attivo l'easy is col f9 quindi ammorbidisco l'arrivo benissimo noi abbiamo già visto in una lezione precedente che è possibile duplicare un livello di una composizione quindi se io per esempio selezionarsi questa fotografia e la duplicarsi con control d oppure edit duplicate che è la stessa cosa avrei due copie dello stesso livello e se sulla copia clicco il tasto U compaiono i keyframe anche della seconda copia e vedo che sono proprio identiche stesso livello stessa animazione sono una sopra l'altra se io per esempio prendessi questa fotografia qua e la ritardassi facciamo di un paio di secondi c'è una preview avrai la prima foto poi la copia della seconda che gli cade sopra e se a questo punto alla copia della prima foto sostituissi un'altra foto come abbiamo già fatto altre volte per esempio questa seconda fotografia qui con il tasto alt rilascio la foto sopra quindi avrei due foto con lo stesso identico movimento grazie la duplicazione ma una sopra l'altra benissimo che in questo caso le dimensioni non sono proprio identiche a seconda foto è un po più piccola e quindi non la copre interamente comunque questo solo per farvi vedere che per fare rapidamente una seconda animazione uguale alla prima basta duplicare il primo livello e poi sostituirlo con un altro bene torniamo un po indietro buttiamo via la copia manteniamo questa fotografia qui però eliminiamo questa animazione sulla posizione allora voglio che questa foto non si trovi qui al centro ma a sinistra qui rifaccio un'altra volta l'animazione sulla position quindi ancora mezzo secondo circa faccio partire l'animazione accendo l'orologio al tempo zero metto la foto fuori benissimo e riattivo anche l'isis f9 quindi benissimo voglio una seconda fotografia sempre qui dentro ci mettiamo anche quest'altra lo riduco più o meno nella stessa dimensione e anche per lui voglio lavorare sulla position e fare un animazione a mezzo secondo quindi nello stesso momento d'arrivo della prima anche la seconda foto si trovi lì quindi accendo l'orologio di position torno al tempo zero e questa seconda foto la voglio fuori dalla parte opposta benissimo e ammorbidisco il secondo keyframe f9 faccio la preview benissimo sono due foto che entrano a parti opposte e si piazzano al centro benissimo ora faccio in modo che questi due livelli vengano messi in una composizione nuova e questa composizione mi diventi il livello di questa composizione animazione finale fotografie l'abbiamo visto nella lezione precedente e se vi ricordate è il secondo dei due metodi di ottenere questa nidificazione di composizioni dentro composizioni e consiste in questo selezioni i livelli che voglio mettere in una composizione in questo caso le due foto seleziono una e l'altra e attivo la funzione precompose che sta nel menu layer ultima voce qua in basso precompose questa operazione tra un attimo creerà una composizione con il nome che adesso io do qui e la chiamo entrata fotografie e gli do anche un numero poi capiremo perché entrata fotografie 1 la prima entrata delle fotografie poi lascio le altre impostazioni così do l'ok a questo punto io all'interno della composizione animazione finale fotografie la composizione entrata fotografie 01 che a sua volta contiene due fotografie animate facciamo una preview per verificare sì è ancora come prima e io queste due composizioni le ho anche qui nella finestra di progetto una su in cima si chiama animazione finale fotografie e l'altra che ho appena creato grazie al comando precompose che si chiama entrata fotografie 01 se volessi andare a controllare il contenuto di entrata fotografie 01 basta che ci faccio doppio clic sopra e si apre anche questa composizione nella timeline e infatti è come prima poi due livelli con le loro animazioni benissimo ritorno a lavorare in animazione finale fotografie ora faccio anche un'animazione su questa composizione entrata fotografie e la voglio fare simile a quella che ho fatto nella lezione precedente cioè voglio lavorare sulla scala s e anche shift t sull'opacità voglio fare un leggero ingrandimento e una dissolvenza finale quindi voglio che al tempo zero la scala sia grande così com'è e accendo l'orologio e dopo facciamo 4 secondi le fotografie cioè la composizione che le contiene sia grande così non solo voglio anche che nell'ultimo secondo da 3 a 4 la foto sparisca quindi a 3 secondi accendo l'orologio di opacity 100% poi mi allineo con l'ultimo keyframe e qui voglio che sia sparito tutto quindi vengo qui attivo la preview quindi ho queste due foto e poi la composizione che le contiene ha un ingrandimento con una dissolvenza finale bene ora faccio quello che avevo fatto all'inizio sulla singola fotografia cioè duplico questa composizione è come fosse un elemento qualsiasi quindi lo seleziono edit duplicate o ctrl d a questo punto verifico che siano identiche schiaccio il tasto u anche sulla copia ho due copie della stessa composizione nella timeline tutte e due hanno stessa animazione sono una sopra l'altra entrambi questi livelli sono una copia di entrata fotografie 01 che è la nella finestra di progetto ora siccome entrambe queste copie dopo 4 secondi non si vedono più nella timeline tutti i frame che vengono dopo i 4 secondi fino alla fine sono inutili quindi entrambe queste fotografie le trimmo in coda prendo le code posso selezionarle anche tutte e due contemporaneamente prendo la coda di uno entrambe si accorciano e le accorcio fino alla fine della dissolvenza qui in modo che da qui in poi non ci siano più bene ora la copia che avevo fatto prima cioè questa qui la prendo tutta intera quel livello e lo sposto avanti nel tempo in modo tale che mentre la prima copia della composizione sta svanendo la seconda entra magari un po' più tardi ancora va mezzo si così o forse un po' prima quindi facciamo una preview di tutti questi sette secondi bene facciamo partire quindi ho la prima copia di fotografie poi un'altra volta la stessa copia che fa lo stesso movimento ora vorrei fare quello che ho fatto un po' con le fotografie singole prima dopo avere duplicato e spostato adesso al posto di questa seconda copia che è uguale alla prima vorrei un'altra copia che fa lo stesso identico movimento d'ingresso quindi avrei bisogno qui già pronta anche un'altra composizione che contiene altre due foto diverse da sostituire a questa qui come prima avevo delle foto già pronte da sostituire vorrei avere anche una composizione già pronta qui da sostituire ma quella non ce l'ho quindi in questo caso se voglio avere un'altra composizione entrata fotografie 0 2 con al suo interno due altre fotografie che fanno lo stesso movimento d'ingresso che faccio duplico l'originale cioè duplico questa composizione entrata fotografie ma a duplicazione la faccio qui nella finestra di progetto in modo tale che poi ho due composizioni diverse quindi la seleziono nella finestra di progetto questa volta la composizione è edit duplicate quindi l'ho duplicata lì adesso due composizioni una separata dall'altra e guardate anche che after effects quando trova degli oggetti numerati dopo una duplicazione cambia l'ultimo numero e lo aggiorna con il numero progressivo quindi in questo caso entrata fotografie 0 1 si rinomina automaticamente entrata fotografie 0 2 a questo punto entrata fotografie 0 2 contiene proprio esattamente le stesse due foto dell'entrata fotografie 0 1 quindi devo sostituire all'interno di questa composizione le due foto con altre due foto per fare questa operazione devo aprire nella timeline questa nuova composizione quindi doppio clic ed eccola qui entrata fotografie con dentro le due stesse foto bene qui non devo fare altro che sostituirle una alla volta queste due fotografie incominciamo da la prima la sostituisco con questa benissimo sono grandi uguali quindi va già bene così seleziono la seconda fotografia e la sostituisco con un'altra foto ancora sempre il tasto alt premuto rilascio ecco in questo caso l'ultima fotografia non ha la stessa dimensione delle altre devo ridurla un po' quindi tasto shift la riduco benissimo in ogni caso le due animazioni sono ancora uguali a questo punto ho una seconda composizione entrata fotografie 0 2 pronta a sostituire la copia che stava nella composizione finale infatti adesso torno nella composizione finale che è animazione finale fotografie qua questa adesso la posso sostituire con la nuova composizione entrata fotografie 0 2 come fosse un elemento qualsiasi quindi seleziono nella timeline la seconda delle due prendo dalla finestra di progetto la composizione entrata fotografie 0 2 tengo premuto il tasto alt e la sostituisco a questo punto ho due composizioni che sono livelli della composizione finale che contengono a loro volta due copie di foto diverse ok quindi in un attimo ho ottenuto due copie di fotografie diverse con la stessa animazione tutto grazie alle duplicazioni quindi così facendo usando questo sistema quando ho dei gruppi di animazioni che si ripetono più volte all'interno di una composizione finale questo sistema della duplicazione composizioni mi velocizza molto il lavoro in after effects pensate se dovessi andare avanti qui per una decina di coppie di fotografie praticamente io il lavoro l'ho fatto nella prima composizione l'animazione l'ho creata lì sulla coppia di fotografie da lì in poi è tutto un duplica e sostituisci quindi spero che anche questo aspetto che riguarda la duplicazione delle composizioni vi sia chiaro come il concetto dell'anidificazione della precomposizione perché anche questa cosa qui è molto importante e come avete visto velocizza molto il lavoro in after effects bene anche per questa lezione è tutto ciao e ci vediamo alla prossima